ciao a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento ciao a maglia eccoci qua quindi il primo appuntamento direi che è andato molto bene c'è stato un bel seguito e allora continuiamo e addentriamoci ancora di più nel tema del dei messaggi che i registi vogliono passare attraverso i loro film e oggi entriamo in questo tema delicatissimo dell'intelligenza artificiale con un thriller psicologico che a maglia ci presenterà in maniera molto semplice e che cosa vogliamo fare vogliamo proprio scavare nei problemi dell'intelligenza artificiale e del rapporto fra uomo macchina oggi metteremo il focus su questa cosa prego maglia sì allora il film è un titolo abbastanza evocativo che appunto quello di ex macchina e che praticamente ci porta in un'atmosfera abbastanza intrigante anche claustrofobica per così dire dopo c'è un programmatore che lavora con un inventore che ha creato questo robot super evolutivo che si chiamava dunque stesso femminile intelligenza artificiale che appunto è straordinariamente umana molto più umana delle piattaforme che noi utilizziamo ma cos'è che la rende più di un robot e una coscienza e dunque cosa racchiude questo la sfida etica del suo programmatore natan ed è quello che appunto riguarda un po anche il nostro lavoro dunque porci anche dei limiti o comunque chiederci fino a che punto possiamo spingerci senza superare i confini senza perdere il controllo senza perdere soprattutto senza perdere l'umanità e quello di cui appunto discutiamo con giuliano nel nostro uso dell'intelligenza artificiale esattamente amalia infatti dopo due anni no che la usiamo all'interno del nostro gruppo di lavoro possiamo dire che che cos'è che ci salva ci salva la competenza e il fatto di avere dei valori etici che ci aiutano a governarla quotidianamente abbiamo visto che con lei ci sono opportunità che prima non non immaginavamo neanche no e questo ci aiuta proprio a vedere il mondo delle imprese la comunicazione di impresa in una maniera nuova ma senza perdere di vista l'umanità che vogliamo sia sempre quel fattore distintivo che ci aiuta a creare tanta buona comunicazione con l'ausilio di questa tecnologia sì infatti appunto in questo rapporto di comunicazione collaborazione tra umano e artificiale c'è il personaggio nel film di di kaleb che appunto l'internista il programmatore che dialoga con ava dunque ci 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 fa comprendere l'importanza di una comunicazione che sia chiara e trasparente e dunque non soltanto di dominio di sfruttamento dell'intelligenza artificiale ed è quello è il modo in cui noi dovremmo utilizzarla appunto nella nostra quotidiana modo in cui noi la utilizziamo nella nostra quotidianità nel senso che noi siamo fondamentalmente coloro che la gestiscono ma comunichiamo in come se fosse un nostro collaboratore dunque trasparenza e controllo nella guida di quello che noi generiamo mai supremazia o senso di né dal punto di vista nostro né lasciare troppa supremazia l'intelligenza artificiale sicuramente giuliano concorda perché appunto il nostro lavoro è importante mantenere un'umanità sostanziale esatto infatti sono proprio le persone che devono assumersi la responsabilità di governare l'intelligenza artificiale e dalla mia esperienza ma potrei dire anche dalla nostra esperienza è affascinante quello che stiamo vedendo a cui stiamo assistendo e anche ho visto la scena dove dove c'è la fuga di avano questo è un monito no perché non bisogna mai sottovalutare ciò che viene creato e qui in giuridea crediamo che con un come dire un protocollo in cui la competenza sia maggiore aiuti a gestire la criticità sì sì non bisogna farla scappare per così non bisogna farla ribellare alle nostre intenzioni la si può in maniera tre virgolette sgridare cioè farle capire quando sbaglia o se c'è qualcosa che appunto non va o se non c'è non ha compreso il nostro prompt che signora la nostra indicazione non ha la nostra indicazione e correggerla dunque un po come un bambino da un punto di vista educarlo verso la giusta direzione ma mai con troppa imposizione è importante saperla gestire anche per non farci sopraffare scusami infatti stavo dicendo che qui possiamo andare proprio verso il finale in cui è chiaro dal trailer che questo film mette in evidenza come ci debba essere un equilibrio no fra l'innovazione e il controllo ed è un po quello che stiamo vivendo quotidianamente perché per trarre il massimo da questa tecnologia non dobbiamo perdere l'intelligenza umana il dinamismo umano che ci rende unici ed è questo che facciamo anche qui fra di noi noi cerchiamo sempre di darsi questo motto ed è una scelta etica per cui lascerei a te la conclusione e il saluto finale sì allora diciamo che non bisogna sfruttare l'intelligenza artificiale ma bisogna volerle bene bisogna utilizzarla come un compagno di viaggio ecco questo è quello che possiamo dire nel nostro piccolo giocarci divertirsi e conoscersi a vicenda e nulla dunque vi aspettiamo sperando che questi questi trailer vi abbiano incuriosito al prossimo per un nuovo approfondimento insieme grazie ciao a tutti a costituire la vera svolta e che ci fai con quello vecchio tu devi aiutarmi le intelligenze artificiali ci ricorderanno come scimmie erette destinate all'estinzione non è strano aver creato qualcosa che ti odia che stavi facendo con eva grazie a tutti grazie a tutti